Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati, buona mattinata a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, oggi è martedì 26 gennaio e siamo in diretta alle 7 come ogni mattina per sfogliare i giornali e raccontarvi un po' i titoli delle notizie più importanti, abbiamo selezionato le pagine più a nostro avviso interessanti le commenteremo, le vedremo nei prossimi 20 minuti. Allora intanto il santo di oggi, vediamolo con il cartello oggi sono la chiesa ricorda i santi Timoteo e Tito, il sole sorgerà alle 7 e 34 e tramonterà a 17 e 12 minuti. Vogliamo dare uno sguardo al tempo, poi parleremo anche del ghiaccio che c'è in queste ore, in questi minuti di prima mattina Allora avremo oggi una giornata di cielo sereno, tecnicamente insomma non c'è molto da dire per questa giornata se non le gelate diffuse in nottate nelle prime ore della mattina, durante la notte qualche fiocco di neve è caduto ma soprattutto ha gelato l'acqua che già c'era, l'acqua piovana che già c'era, quindi vedremo tra poco vi faremo vedere una fotografia. Poi mercoledì, mercoledì domani cielo sereno poco nuvoso, ancora gelate nei fondovalle e poi giovedì 28, giovedì 28 cielo sereno poco lovoloso, con temperature in aumento nei valori massimi. Per quanto riguarda i prossimi giorni, probabilmente un peggioramento nel fine settimana per la giornata di domenica, non è esclusa nemmeno la comparsa della neve fin sulla costa ma di questo ne vedremo, intanto ne parleremo, intanto guardate questa fotografia che uno dei nostri reporter ci ha inviato poco fa, prima della diretta, qui siamo a Cartoceto, poco dopo mezzanotte vedete il lampione non mente e ci dà subito l'idea, compresa le macchine insomma, ci dà subito l'idea di che cosa appunto è successo durante la notte, siamo nelle colline, colline di Cartoceto la vedete le macchine bianche, la neve, un po' di neve che è scesa ma soprattutto al di là della neve c'è tanto ghiaccio, tanta acqua che è stata ghiacciata farete difficoltà ad aprire persino la portiera della macchina perché è completamente ghiacciata la questione, quindi davvero anche sul freno sappiate che la strada è una lastra di ghiaccio allora detta questa raccomandazione andiamo subito adesso a vedere i giornali il giornale Carlino di Pesaro apre con la tragedia di questo personal trainer di 48 anni che muore alla fine di un ciclo di astinenza dal cibo il titolo la tragedia dopo il digiuno e poi il titolo rientro a scuola, buona la prima zero assembramenti, bus semivuoti, qualche problema di connessione i ragazzi dicono ci siamo ripresi gli spazi le cipolle mettono il verdetto, avremo un anno gradevole senza fenomeni meteo estremi le previsioni del barometro di Urbani e poi lo screening in classe tamponi, partite, le lettere, da oggi si decide l'adesione e poi un uomo di 72 anni ucciso dal covid stiamo parlando di un uomo che è anche un pastore, un prete donna Giuseppe Calcinelli un parroco storico che ha lasciato un vuoto enorme visse i tifosi, la squadra subito a Cangini e Sandreani l'appello al presidente da parte dei tifosi poi Vuel, il momento è magico, Zanotti convocato in nazionale sotto un grande mister che sapeva motivare l'addio degli ex ragazzi a mister Becchetti e poi per la giornata della memoria a Shoah e storie vissute per non dimenticare andiamo a vedere il Corriere Adriatico rigore e timori, ma la scuola va anche il dirigente Filisetti al campus di Pesero per il rientro il dirigente ha detto ho voluto scegliere la città di Pesero perché è la città simbolo della pandemia giovedì partono intanto gli screening Ricci non molla, le marche ci boicottano dice Tamponi, dunque dall'Emilia Romagna Palascavolini, che è ancora in costruzione ginnastica stellare campionati europei dal 20 di settembre poi sotto il gagliardetto Viss per l'ultimo viaggio del Sorra Becchetti l'assalto da Troni per il Black Friday rapinatori incastrati poi Geloso raggiunge la ragazza per litigare multato e denunciato di spalla invece si parla del progetto Kairos Air ovvero la nuova compagnia aerea marchigiana ecco i nuovi imprenditori che parteciperanno a questa accordata da Marconi a Giacomelli poi ancora dalla prima del Corriere di Pesero rilancio VL, la Coppa è il 12 Zanotti azzurro e poi per le cipolle sarà un'estate senza fine apriamo con la tragedia di Andrea Andrea Bindi, 48 anni originario di La Spezia abitava a Ronco-Sambaccio aveva una figlia di 14 anni era separato ma con la moglie, scrive Elisabetta Rossi c'era un rapporto sereno Andrea è morto l'ultimo giorno del digiuno questo è il titolo da un paio di anni era diventato vegano convinto salutista puntava ai rimedi naturali il dolore dei parenti domani intanto l'autopsia puntava a prendere anche una laurea in scienze dell'alimentazione aveva le sue idee ma non voleva imporle a nessuno e solo l'autopsia scrive Elisabetta Rossi sul giornale di questa mattina potrà chiarire le cause la causa della morte di Andrea sempre sul Carlino dalla Valle del Cesano invece Sandro Franceschetti questa mattina racconta e scrive questo pezzo sulla morte di un parroco uno storico parroco di Calcinelli di Colli al Metauro Don Giuseppe, Don Peppe il Covid si è portato via Don Giuseppe Nunzio Monaco parroco di Calcinelli aveva compiuto 72 anni il 29 novembre scorso e dal 6 gennaio era ricoverato all'ospedale di Pesero per l'aggravarsi dei sintomi riconducibili al coronavirus che erano comparsi la sera di Capodanno giornata in cui celebrò appunto le sue ultime messe l'estremo saluto il funerale si terrà secondo il resto del Carlino giovedì alle ore 15 nella Chiesa di Santa Croce e a celebrare il rito funebre sarà il vescovo Armando Trasarti il ricordo tra l'altro anche del sindaco di Colli al Metauro che dice guidava Santa Croce la parrocchia dal 1997 aveva modi spicci poteva sembrare burbero ma amava i suoi fedeli immensamente e ne parla ovviamente anche il Corriere Adriatico con questo titolo il Covid non gli ha dato scampo il prete dall'aria burbera e dal cuore d'oro Don Peppe era per me un caro amico spiega il sindaco Giuliani frequento la parrocchia e suono ormai da tanto tempo la chitarra durante la Messa delle Undici e quindi dice lo conosco molto bene aveva questo carattere diretto e a qualcuno poteva apparire perfino burbero ma sotto la scorza dell'educatore c'era un animo tanto buono e bene lo sa chi nei rapporti umani non si limita solo alle apparenze eh sì Don Peppe appunto era un uomo diretto schietto pane pane vino al vino così come dovremmo essere tutti quanti noi e allora adesso parliamo invece del Covid la curva rallenta piano l'andamento alterno delle terapie intensive dopo una settimana di calo ieri è tornato a crescere il numero di Covid Maria Teresa Maria scusate Cristina Benedetti questa mattina nell'attacco di questo articolo nel quale appunto si fa un po' la situazione la fotografia della situazione in queste ultime ore nelle Marche scrive esattamente un po' come stanno andando le cose l'andamento nella nostra regione è un andamento lento ogni parametro della liturgia del virus scende piano goccia a goccia la comparazione diluita su 15 giorni è la rappresentazione plastica che al massimo sforzo corrisponde il minimo dei risultati ripetiamo al massimo sforzo che è quello di tutti noi dei sanitari di tutti coloro che sono attori protagonisti e lo siamo tutti in questa storia al massimo sforzo corrisponde però il minimo del risultato convertito in pratica la strada per battere il covid è ancora lunga e tortuosa cambiamo di nuovo argomento torneremo a parlare di covid la primavera la primavera che tutti quanti noi aspettiamo così come aspettiamo l'estate che speriamo si porti via questa pandemia questo virus come sarà secondo le previsioni delle cipolle di urbania che è una tradizione chiaramente non stiamo a non dobbiamo come dire andare ad aprire le enciclopedie o a ripercorrere chissà quali strade per vedere se è vero se è un metodo scientifico o meno lasciamo perdere è una tradizione e così va vissuta così va va presa per quello che è poca pioggia temperature miti autunno dolce sarà un anno gradevole il risponso delle cipolle estate piena per tutti i mesi inverno praticamente senza neve ecco tutto il calendario meteo e lo troverete sulla pagina del carlino così come quella del Corriere Adriatico intanto il sale non si è sciolto non si è sciolto quasi per nulla quindi vuol dire che le precipitazioni saranno scarse cosa titola invece come titola Urbino le cipolle prevedono una lunga estate caldo fino a ottobre poche le piogge Emanuela Forlini che è l'insegnante che sussurra alla pianta bulbosa dice stesso risultato quasi dei giorni con Tarecci anche qui troverete il quadro noi ieri mattina grazie appunto alla signora Forlini siamo riusciti a darvi in anteprima tutte queste mese per mese un po' le previsioni quindi non stiamo adesso a ripeterle però in sintesi avremo poca pioggia secondo le cipolle appunto è un'estate piuttosto lunga ma senza molta afa insomma non calda però il carlino invece con Lara Ottaviani che ha ottimi rapporti appunto con la signora Forlini quindi giustamente riesce ad avere qualche informazione in più rispetto agli altri Lara Ottaviani racconta sul carlino di questa mattina invece il dramma tra virgolette perché poi è finito bene che ha vissuto la signora Forlini appunto la signora delle cipolle nel mese di marzo quando del covid si sapeva poco o nulla e perché perché la signora Forlini purtroppo questo covid se l'è preso lei dice ragazzi il vero medioevo è non vaccinarsi Emanuele Forlini racconta la sua angosciante esperienza e dice mi ha lasciato il segno ho visto gente morire vicino a me io per fortuna potevo respirare da sola perché è stata poi ricoverata una ventina di giorni in ospedale forse la gente e qui c'è una confessione che è un po' quello che vi dicevo prima dice lei stessa dice forse la gente ancora non ha capito che io per prima non credo a questa previsione ecco quindi questo per dirvi insomma che sono tradizioni che lei giustamente porta avanti ma più che altro per amore del nonno per amore del papà e che quindi in qualche modo questa questa confessione serve anche per mettere un po' in ordine perché poi c'è qualcuno che si affretta subito a scrivere su Facebook sui social che non è vero niente ci spende pure il tempo per scrivere queste cose quindi voglio dire prendiamole per quelle che sono allora detto questo andiamo sull'altra pagina la giungla dei vaccini questo è un altro problema è un altro tema interessante che ogni giorno trova molto spazio sui giornali i vaccini questi vaccini che sono un po' adesso per tutti quanti la speranza molti ripongono speranze insomma su questi su questi vaccini ma su questi vaccini ancora secondo me non si è detto tutto fino in fondo ma comunque Salta Martini assessore alla salute della regione propone al vice ministro Sileri di produrre i vaccini in Italia per le altre categorie lo slittamento potrebbe arrivare anche a otto settimane sapete che c'è un problema di approvvigionamento quindi il piano che era stato stabilito dalla Pfizer in particolare è saltato perché servono molte dosi ma le aziende la Pfizer appunto negli stabilimenti che ha non riesce a produrli a sufficienza e quindi il piano che sulla carta sul planning avevano stabilito è di fatto saltato un po' come succede per i tracciamenti uno pensa di fare una cosa e poi dopo quando in realtà la richiesta è tanta oppure i contagi sono troppi i tracciamenti così come i piani saltano perché alla teoria non corrisponde poi la pratica comunque in arrivo 5.000 dosi ma se ne attendevano 9.750 quindi c'è un deficit quasi del 50% in lista d'attesa ci sono anche quelli che hanno meno di 60 anni e che però sono ritenuti soggetti a rischio e allora il vice ministro Sileri che cosa ha detto Pier Paolo Sileri ha annunciato uno slittamento di 4 settimane di questo vaccino nella somministrazione di questa profilassia agli oltre ottantenni e dalle 6 alle 8 per il resto della popolazione quindi questa è la notizia poi la campagna vaccinale vede la fase 1 quella rivolta al personale sanitario e a chi lavora nelle case di riposo che è ancora in corso questa campagna vaccinale con i 5.000 5.000 dosi di questa settimana sono stati consegnati ad oggi 38.000 vaccini ma la doppia somministrazione sta a significare che siamo ancora al 50% della fornitura questa settimana come dicevo sono attese altre 5.000 dosi della Pfizer che però è sotto la soglia rispetto ai 9.750 settimanali concordate e poi ci sono altri 1.700 vaccini però di Moderna mentre leggevo l'altro vaccino Astra Azzeca non mi ricordo esattamente il nome leggevo che insomma ha poca efficacia anche su quello quello è un altro problema rispetto alle previsioni pare che sia poco o niente efficace andiamo invece a vedere la pagina del Corriere Adriatico ve l'ho selezionata perché questa pagina pagina 5 intervista il virologo Menso che parla questa mattina della variante inglese perché non dimentichiamoci che c'è pure la variante inglese che sta ancora circolando anche nella nostra regione tutto è partito da Loreto qualcuno chi segue la rassegna stampa tutti i giorni tutte le mattine sa un po' di cosa stiamo parlando cioè a Loreto è stata trovata questa prima famiglia poi pareva che tutto fosse stato circoscritto in realtà poi hanno trovato altre altre persone però secondo il virologo la situazione comunque è veramente sotto controllo e per sapere se il vaccino è efficace anche contro la variante inglese bisogna aspettare il richiamo sulla mutazione inglese qui andiamo sul Carlino ma l'edizione di Ancona sulla mutazione inglese 10 cluster familiari vedete altri casi in provincia per la variante del covid la provincia è quella di Ancona il virologo dice il virus modificato sta girando anche da noi ma in modo circoscritto pochissimi di questi avevano soggiornato in Gran Bretagna prima del contagio piccoli segnali di speranza invece gli ospedali ora respirano confrontando i dati con la settimana scorsa i ricoveri sono in diminuzione e se i vaccini mancano dice Saltamartini produciamoli noi Saltamartini ha chiesto al governo di realizzare le fiale nelle marche negli stabilimenti Pfizer di Ascoli e negli stabilimenti Angelini di Ancona mentre sulla guerra dei tamponi tra Ricci e Saltamartini appunto Baiocchi e Biagiotti anti Ricci dicono fa demagogia spicciola tamponi a scuola partite le lettere l'assessore farli a un dovere civico si sta ultimando l'operazione del comune al via da giovedì oggi gli alunni troveranno nella loro email i moduli di adesione che devono firmare anche i genitori costo dello screening 50 mila euro questo però escluso il personale poi calano i positivi diminuiscono i ricoveri la curva dell'epidemia fa ben sperare ma ci sono anche i dubbi a proposito di questi su scuole sicure i genitori vorranno rischiare una quarantena perché chiaramente se il figlio che va a scuola che farà il tampone verrà trovato positivo chiaramente poi tutta la famiglia dovrà inevitabilmente stare in quarantena questi sono dubbi ma sono anche finti problemi nel senso che se uno è positivo il problema della quarantena non esiste ci stai e basta tamponi le marche ci boicottano li prenderemo in Emilia Romagna dice Matteo Ricci screening a scuola il sindaco tira dritto il gruppo PD presenterà una interrogazione in regione e poi più fermate controlli e autobus gli assembramenti sono un ricordo il tris strategico ha funzionato i ragazzi ammettono saliamo sui mezzi in maniera scaglionata Benedetti direttore di Adria bus buona la prima ma la linea Fano Pesaro delle 7.30 l'abbiamo rinforzata beh certamente a guardare le fotografie pubblicate questa mattina sul resto del Carlino chiaramente si nota subito a colpo d'occhio che gli assembramenti a cui eravamo abituati qualche mese fa alle fermate degli autobus o all'interno insomma sono assolutamente ridotti al minimo siamo sulla cronaca di Senigallia del Corriere Adriatico c'è uno scontro dove è rimasta ferita anche una bimba a tre castelli vedete la fotografia qua sotto nel violento frontale coinvolta pure l'auto di un carabiniere via del Bosco dopo la collisione in curva una macchina è finita fuori strada al pronto soccorso anche il papà della ragazzina ci sono stati disagi per la viabilità e sull'altra pagina invece questa volta del resto del Carlino si parla della guinza anche i fanesi contro la canna unica l'assessore Lucarelli chiede al commissario governativo Simonini di tenere conto dell'impatto economico della galleria unidirezionale lo ricordiamo si va solo dal mare verso l'Umbria verso Perugia non al contrario rendere complicata la comunicazione tra la nostra regione e la confinante è deleterio questa è la pagina che troverete appunto sulla la notizia che troverete sul Carlino a San Silvestro di Fermignano invece una grande festa per i cento anni della signora Domenica Falasconi che qui vedete con il sindaco di Fermignano appunto Feduzzi Kairos Air un patto con ego parliamo della nuova compagnia aerea made in Marche cioè tutta marchigiana si impegnano Luzzi Cecconi Guidi Giacomelli e Marconi la prossima settimana l'assemblea per allargare il perimetro della compagnia e dopo i Merloni che hanno preso almeno due quote e Guzzini ecco gli ok di nuovi imprenditori chi sono questi nuovi imprenditori abbiamo in questo riquadro lo potete vedere anche voi ecco qua allora sono pronti a versare la loro quota Francesco Merloni Paolo Merloni Adolfo Guzzini Enrico Giacomelli di Senigallia Famiglia Luzzi di Civitanova Stefano Marconi di Ancona Eros Cecconi di Ancona e Guido Guidi di Ancona con la compagnia di Piacenza si parla di patti commerciali intanto l'obiettivo è quello di salire oltre i 3 milioni di capitale sociale l'obiettivo tecnico invece è acquisire il certificato di operatore aereo e poi l'obiettivo commerciale di aprire i primi voli per la fine di giugno Covid permettendo comunque insomma questa operazione sta andando avanti e come mi sottolineava qualche telespettatore qualche settimana fa vedendo anche il mio entusiasmo di fronte a questa notizia di una compagnia tutta marchigiana lui diceva è bene essere contento ma spera anche che poi non si trovi in difficoltà e che poi per mandarla avanti occorra come spesso accade in questi casi tirare fuori i soldi della regione quindi dello Stato oppure comunque di tutti noi contribuenti quindi che vada bene che la facessero funzionare senza l'aiuto come dire dello Stato ma soltanto con i soldi privati di un altro aeroporto si parla questa volta ma quello di Fano un aeroporto che è quello appunto Berloni detta le condizioni Berloni Massimo Berloni è stato tirato in ballo nella giornata di ieri sempre dal nostro sempre dal Carlino come potenziale nuovo presidente dell'aeroporto qualcuno però a sinistra sta già protestando alzando le barricate per esempio la Luzzi di Incomune che dice no alla pista in cemento Carnaroli non serve un'altra Falconara il nodo giuridico e finanziario poi domani parte la sperimentazione via Trave Montenerone Fornace nuova viabilità una sperimentazione per i prossimi due mesi e poi sulla ciclabile Fanurbino rilievi corretti Biancari dice io no sono solo i no scusate sono solo politici poi soldi alle città cadette se riguida la rivolta in vista del recovery fund il sindaco del terzo centro delle Marche mette le mani avanti basta privilegiare i capoluoghi lettera a tutti i sindaci tra virgolette esclusi poi c'è posta dal conte Lupo Bracci caro Massimo a San Pietro in Valle non pensi andiamo adesso invece sull'altra pagina di Fano riscossa delle città di media grandezza se richiama Lanci e i colleghi penalizzati un terzo dei comuni copa luogo a popolazione inferiore a Fano e il 50% è meno esteso insomma siamo l'insostituibile cerniera fra aree urbane e rurali tra città e metropolitane e borghi poi la Fano Urbino scelta la scelta del nuovo tracciato è solo politica Biancani dopo la correzione da parte di autostrade del rilievo del ministero coca in teatro questa è ancora cronaca la cocaina in teatro al teatro della fortuna tutti a processo con sconto hanno scelto di patteggiare o il rito abbreviato i quattro imputati accusati di spaccio la droga fu trovata nel tempio della cultura cittadina hanno scelto di patteggiare con il rito abbreviato i quattro accusati di spaccio di cocaina tra cui un tecnico del teatro della fortuna di Fano la decisione per tutti arriverà il prossimo 21 aprile e ancora a Marotta sempre dal tribunale il pestaggio al Baroasi le accuse si alleggeriscono processo ai presunti mandanti un fatto che avvenne nel luglio del 2014 vittima un cinquantenne di Mondolfo e adesso invece l'ultimo saluto a Mr. Becchetti il funerale del tecnico alla presenza di tanti calciatori ex calciatori di Vissefano degli anni 70 un grande amico che sapeva motivarti mi chiedeva di parlare al funerale lui è stato un inno alla vita e al calcio dice l'ex DS Leonardo Pallas Cavolini si partirà con la ginnastica stellare avanti con eventi e sport dal Corriere Adriatico la struttura non è ancora stata inaugurata ma il comune di Pesero riempie l'agenda scelto il logo dei campionati europei realizzato dagli studenti del Mengaroni mentre Ucchielli da Vallefoglia il sindaco di Vallefoglia porta il mare a scuola a Mensa arriverà anche il pesce azzurro fresco l'assessore Barbara Torcolacci dice un servizio fondamentale migliorato con qualità e poi tamponi a Cagli 1191 test in due giorni ma è stato trovato un solo positivo domani l'ultima occasione alla palestra Panichi Pieretti Alessandri dice grazie a tutti e poi anche sul Corriere Adriatico di Fano vedete l'assessore alla viabilità Fabio Latonelli che annuncia la sperimentazione del traffico sulle vie trave Montenerone della Fornace da domani per due mesi mini rotatoria e inversioni del senso di marcia l'assessore spiega che cosa e come avverrà questa modifica verso aprile tireremo le somme e se i dati saranno positivi procederemo con i lavori definitivi trovato senza vita morto senza vita in casa oggi l'autopsia Andrea Bindi era uno sportivo appassionato di arti marziali si pensa comunque ad una morte naturale mentre sulla pagina della Val Cesano Mondavio paese dal pollice verde della raccolta differenziata a Mondavio è a più 61% in dieci anni si è passati dal 14 al 75 il ruolo chiave del progetto ecovolontari poi di taglio basso medaglia d'onore al padre del maestrone Bonaccini risarcimento morale a chi ha detto no al nazifascismo a Senigallia invece chiude il covid hotel i dati lo consentono soltanto sette gli ospiti nelle camere basta una sola struttura in regione in città sono 529 positivi e 805 le persone in isolamento 5 ricoverati in terapia intensiva 24 negli altri per un massimo di 31 posti senza biglietto del treno invece si spoglia per protesta multa da 10.000 euro un ragazzo con precedenti per droga ha prima lanciato il cellulare poi si è tolto i vestiti si è spogliato completamente nudo sanzionato anche uno del suo amico edicola rischio crollo puntellata per evitare incidenti stradali sempre a tre castelli in località Monterado a Urbino lavoriamo insieme per la Pesaro Urbino il sindaco Gambini chiede ai comuni provincia regione e governo di rispolverare un nuovo tracciato stradale già ipotizzato negli anni 60 non solo la riapertura della ferrovia anche un collegamento per i mezzi su gomma e poi servizio civile nella Croce Rossa le domande entro l'8 di febbraio e chiudiamo con appunto la fotografia con la quale abbiamo aperto rinnovandovi l'attenzione alle strade ghiacciate è tutto ci vediamo stasera grazie